Proseguono gli incontri della consulta femminile regionale per rievocare la storia e l'impegno di quattro donne piemontesi da poco scomparse. Dopo il ricordo di Giovanna Cattano Incisa a Palazzo Lascaris, è stato organizzato l'incontro sulla figura di Nicoletta Casiraghi. Seguiranno quelli dedicati a Maria Magnani Noia e Angela Massucco Costa.